Buongiorno a tutti, torniamo oggi a parlare di Luigi Pirandello e lo facciamo prendendo in esame L'Uomo dal fiore in bocca, questo atto unico che viene rappresentato per la prima volta al Teatro Manzoni di Milano il 21 febbraio del 1923 e che Pirandello trasse dalla sua celebre novella La morte addosso. Confronteremo il testo pirandelliano con la rivisitazione che Marco Bellocchio ne ha fatto nel 1993 con il suo cortometraggio che ha copi e protagonisti Michele Placi, Donino Bellomo e Ernestina Chinova. Di che cosa tratta molto brevemente quest'opera pirandelliana? Ci sono questi due uomini, cioè l'Avventore, così definito, e l'Uomo dal fiore in bocca che sostanzialmente si incontrano in un bar della stazione centrale dove l'Uomo, cioè l'Avventore, ha perso il treno perché si è dilungato nel fare compere per la moglie, per parenti e amiche della moglie e l'Uomo dal fiore in bocca che invece sembra un uomo senza meta che sta aggirandosi per quei luoghi senza un obiettivo ben preciso, ben definito. Cominciano a parlare appunto dei motivi che hanno portato l'Uomo, l'Avventore, a perdere il treno, quindi parlano del fatto che ha dovuto comprare parecchi regali e nel portarli quindi si è attardato e da qui nasce questo dialogo 3-2 che ben presto si sviluppa in una maniera imprevista e imprevedibile perché sostanzialmente questo dialogo è uno spunto per ragionare un po' sui temi consueti della poetica pirandelliana che sono sostanzialmente l'incomunicabilità tra gli uomini e la relatività che si dipana, che si esprime rispetto a tutta la realtà. Generalmente possiamo partire da questi temi però nell'Uomo dal fiore in bocca in realtà vengono fuori molti spunti interessanti rispetto ai temi fondamentali della poetica pirandelliana. Che succede? Succede sostanzialmente che l'Uomo dal fiore in bocca viene definito in questo modo perché è malato, ha un tumore, ha giorni contati e lo dirà verso la fine dell'opera. Ma inizialmente appunto dimostrerà questo attaccamento alla vita, questa aderenza alla vita e quando entrerà nel vivo il confronto tra i due in realtà quello che all'inizio è un dialogo diventerà un monologo dove l'Uomo dal fiore in bocca affronterà appunto con dovizia di particolari alcune questioni che gli stanno a cuore e che lasceranno il suo interlocutore senza parole, tant'è che quel monologo diventerà appunto il modo per mettere al centro dell'opera le questioni di cui parlavamo. Entriamo nel vivo e leggiamo una parte dell'opera pirandelliana quando appunto l'Uomo dal fiore in bocca spiega all'avventore che a lui serve, per la situazione in cui sta, ancora non ha spiegato della malattia di cui soffre, a lui serve appunto, dicevamo, attaccarsi in qualche modo alla vita, vivere la vita degli altri. Mi serve, mi serve questo e l'avventore gli chiede che cosa le serve, scusi che cosa? Attaccarmi così, dico con l'immaginazione alla vita, come un rampicante attorno alle sbarre di una cancellata. Non lasciarla mai posare un momento l'immaginazione, aderire, aderire con essa continuamente alla vita degli altri, ma non della gente che conosco, no no, a quella non potrei, ne provo un fastidio, se sapesse, una nausea, alla vita degli estranei, intorno ai quali la mia immaginazione può lavorare liberamente, ma non a capriccio, anzi tenendo conto delle minime apparenze scoperte in questo e in quello, e sapesse quanto e come lavora, fino a quanto riesco ad addentrarmi, vedo la casa di questo e di quello, ci vivo, mi ci sento proprio, fino ad avvertire, sa quel particolare alito che cove in ogni cosa, nella sua, nella mia, ma nella nostra, noi non avvertiamo più, perché è all'altro stesso della nostra vita. Mi spiego che cosa vuole dire l'uomo a questo punto, nei confronti di questo dialogo, diventa di un'insistenza che cresce, che cresce mano a mano, c'è una parte di ironia, ma è un'ironia disperata, perché l'attaccamento alla vita da parte dell'uomo dal fiore in bocca è senz'altro una reazione al suo status fisico, alla sua malattia, cioè lui vuole assaporare la vita fino all'ultimo istante, quasi in maniera ferina, quasi come fanno gli animali, che vivono distinti e distanti, potremmo dire, cercando quindi di assaporarne ogni aspetto, ogni momento, senza una meta, senza un obiettivo, è la stessa cosa che fa l'uomo dal fiore in bocca, sa che è i giorni contati e in questo modo vuole aderire alla vita, vuole immedesimarsi nella vita degli altri, vuole immaginare la vita degli altri. Attenzione, non di coloro che conosce, perché proprio perché li conosce questo sforzo di immaginazione sarebbe minimo, ma di chi non conosce, e quindi anche in questo caso l'incontro con l'avventore rappresenta un modo per entrare nella sua vita, un modo per immaginare perché sia così preso da inezie sostanzialmente, il dover accontentare la moglie, il dover preoccuparsi di fare dei pacchi, di fare dei regali, quando lui sta morendo e la vita per lui rappresenta sostanzialmente l'ultimo stadio, questo scorcio della sua vita rappresenta l'ultimo stadio di un'esistenza che non è riuscita ad afferrare e lo dice anche più avanti quando fa riferimento sempre al bisogno di attaccamento. Io le dico che ho bisogno di attaccarmi con l'immaginazione alla vita altrui, ma così senza piacere, senza appunto interessarmene, anzi anzi per sentirne il fastidio, per giudicarla sciocca e vana la vita, così che veramente non debba importare a nessuno di finirla. È quasi un modo per esperire fino in fondo la vanità delle cose, la transitorietà delle cose e anche la poca importanza dei singoli aspetti quotidiani, quasi per quindi dissacrare il senso stesso della vita. Ma inizialmente ovviamente l'avventore non si rende conto del dramma che l'uomo dal fiore in bocca sta vivendo, perché c'è una contrapposizione quasi paradossale tra le preoccupazioni che ha questo avventore e invece il grosso peso che ha sul suo futuro immediato l'uomo dal fiore in bocca. Non riesce a capire che per lui, per l'uomo dal fiore in bocca, ogni istante è tutto, vivere ogni istante è tutto e quel tutto è niente, perché a breve quel tutto verrà vanificato dalla morte. Però lui è quasi disperatamente attaccato ad ogni singolo episodio che può immaginare della vita degli altri, perché qualunque cosa lo attrae. aveva parlato all'inizio l'uomo dal fiore in bocca confrontandosi con l'avventore della sua abitudine di mettersi fuori alle vetrine dei negozi nel vedere i commessi che preparano i pacchetti, quindi soffermarsi su ogni singolo istante e su ogni particolare nel fare i pacchetti. La carta liscia, come i commessi la piegano, come con maestria la impacchettano, tutto questo rappresenta quasi una sublimazione dell'attimo, perché tutto attrae l'uomo dal fiore in bocca, tutto quel che incontra diventa in qualche modo suo, lo vuole vivere, assaporare, assorbire, dicevamo in modo esclusivamente istintivo, senza alcuna prospettiva, un po' come fanno, dicevamo, gli animali. Questo rimanda a, dicevamo, le tematiche consuete di Pirandello. Di Pirandello abbiamo visto la forma che si scontra, la forma intesa come maschera, come definizione che ognuno ha agli occhi degli altri, che si scontra con quello che è il flusso incessante della vita, con quello che rappresenta appunto il mutamento continuo, la trasformazione continua, gli istanti che continuamente fanno della vita appunto qualcosa di diversa e unica in qualunque momento. E anche qui, per l'uomo dal fiore in bocca, la vita diventa qualcosa di interessante, di unico in qualunque momento, ma è quasi un modo per distaccarsene, per accentuare la sua vacuità. E questo emerge bene nella parte in cui l'uomo dal fiore in bocca fa degli esempi per in qualche modo rendere partecipe, per far comprendere all'avventore, ma che in realtà parla a noi, nasce come un'opera teatrale, quest'opera appunto di Pirandello, e ci vuole trasmettere esattamente questo. Quando parla con l'avventore della seggiola che negli studi medici, quasi immedesimandosi in essa, accolgono le varie persone che poi si faranno visitare, è un modo per ancora una volta affrontare la frammentazione dell'io, la molteplicità delle sensazioni e delle differenze che all'interno di ciascuno di noi possono albergare, perché si immedesima nella seggiola che appunto prende in analisi tutti i vari pazienti che si alternano, che poi entrano dal medico in attesa di una risposta, in attesa quasi di una sentenza. C'è un piccolo particolare che emerge e nella rappresentazione di Bellocchio si vede ovviamente nell'interpretazione di Ernestina Chinova, cioè la moglie che nascondendosi segue la vita dell'uomo dal fiore in bocca, cioè lo segue, perché lei sa che è malato e vorrebbe prendersene cura, ma lui ovviamente fugge da questa forma di abitudinarietà, di consuetudine, di serena tranquillità e per far capire, per farci capire, per far intendere in questo caso all'interlocutore dell'opera, all'avventore, il fastidio che ne prova ricorre ad alcuni esempi e dice come posso io stare a casa con quello che vivo, con quello che mi sta succedendo, con quello che a breve mi succederà, perché lui ha ormai i giorni contati e quindi fa un esempio rispetto al terremoto, al terremoto di Avezzano e di Messina e dice con appunto in maniera crescente, con un tono crescente, quasi con una vis polemica che allo stesso tempo disperata però è anche ironica e dice all'avventore e pensi se le case di Avezzano di Messina, sapendo del terremoto che stava per arrivare, potessero stare tranquille diciamo, potessero preoccuparsi in qualche modo di rispettare il piano regolatore o le norme di quei comuni, oppure pensi se le persone che sapendo del terremoto che stava arrivando potessero mettersi a letto la sera come se nulla fosse per testimoniare appunto questo caos calmo, potremmo dire in questo caso, che è preludio di qualcosa di enormemente devastante, destabilizzante che sta per succedere, allo stesso modo per lui quello sta per avvenire, cioè qualcosa di destabilizzante, la morte è quanto di più impattante possa accadere ovviamente e quindi cerca in questo modo di descrivere le sue sensazioni rispetto all'impossibilità per lui di restarsene tranquillo a casa e quindi quasi con repulsione tratta la moglie e descrive la moglie che invece vorrebbe prendersi cura di lui, vorrebbe che rimanesse a casa, vorrebbe sostanzialmente che vivesse con lei gli ultimi giorni che ha da vivere. E questo è da dimostrare bene, sa? Con prove ed esempi continui, a noi stessi implacabilmente, perché caro signore non sappiamo da che cosa sia fatto, ma c'è, c'è, ce lo sentiamo tutti qua, come un'angoscia nella gola, il gusto della vita che non si soddisfa mai, siamo al centro della questione, il gusto della vita che non si soddisfa mai e riprende, che non si può mai soddisfare perché la vita, nell'atto stesso che la viviamo, è così sempre ingorda di se stessa, che non si lascia assaporare, il sapore è nel passato che ci rimane vivo dentro, il gusto della vita ci viene di là, dai ricordi che ci tengono legati, ma legati a che cosa? A questa sciocchezza qua, a queste noie, a tante stupide illusioni, insulsi e occupazioni, sì sì, questa che ora qua è una sciocchezza, questa che ora qua è una noia, arrivo fin anche a dire questa che ora è per noi una sventura, una vera sventura, sì signori, a distanza di 4, 5, 10 anni, chissà che sapore acquisterà, che gusto queste lacrime, e la vita al solo pensiero di perderla per Dio specialmente quando si sa che è questione di giorni, e si ferma, qui si ferma perché ha detto fino in fondo qual è il suo dramma interiore, e infatti mostra all'avventore questo epitelioma, su cui scherza anche perché dice un suono dolce, come una caramella, questo epitelioma, quindi questo tumore che ha sul viso, sul labbro, e che è sintomo di questa malattia che lo porterà via da lì a breve tempo e si saluta sostanzialmente con l'avventore dicendo che nel momento in cui tornerà a casa gli chiede nella strada che appunto dalla stazione lo condurrà di nuovo a casa di scegliere un cespuglio, magari ben grande sostanzialmente, e contare fili d'erba perché quei fili d'erba rappresenteranno i giorni che lui ancora avrà da vivere in modo drammaticamente scherzoso. Pirandello con questa opera sicuramente ha voluto in qualche modo mettere al centro le sue tematiche classiche, però vorrei sottolineare come d'altra parte è stato riscontrato e ribadito più volte anche da vari critici letterari, era senza dubbio il riflesso della sua vita, la presenza fin da fanciullo della morte, della riflessione sulla morte, la pazzia della moglie di Maria Antonietta Portulano che appunto verrà poi rinchiusa in manicomio a un certo punto, insomma tutte questioni che colpiranno profondamente, determineranno quindi con questa forte immagine, con questa forte presenza nel suo immaginario, determineranno sicuramente una ascendenza nelle sue opere. Mi piace anche ricordare quella che Pirandello diede di se stesso come definizione che rappresenta bene non soltanto rispetto all'uomo dal Signore in Bocca ma poi in tutta la sua produzione poetica un dato ineliminabile, un dato sempre presente. Lui disse di se io sono figlio del caos e non allegoricamente ma in giusta realtà perché sono nato in una nostra campagna che trovasi presso ad un intricato bosco denominato in forma dialettale, cavusu, dagli abitanti di Girgenti, corruzione dialettale del genuino e antico vocabolario greco caos. Quindi questo caos che in qualche modo si ripresenta in questa frammentazione dell'io dove nell'uomo dal fiore in bocca è considerata in qualche modo il segmento finale diciamo della poetica pirandelliana perché abbiamo visto che ciascuno viene visto in uno del suo centomila per esempio ma anche il fu Mattia Pascal nella sua produzione novellistica è visto in modo diverso in modo multiforme dagli altri. Nell'uomo dal fiore in bocca questa diversità, questo caos sostanzialmente appunto come dicevamo è il frutto dell'impossibilità di assaporare la vita, la vita non si fa afferrare, quindi questa forma fluida che cambia, che muta in maniera costante e che in questo caso di fronte ad una vita che è quella dell'uomo dal fiore in bocca che scorre via, che sta per andare via, ne determina un ultimo sussulto per poter afferrare quanto più possibile anche gli aspetti più semplici, più banali, più consuetudinari per poterseli immaginare e metabolizzarli affinché il tutto diventi quasi un ricordo del passato e diventi un'accelerazione del vivere che permette in qualche modo di consolare il protagonista che sa di avere i giorni contati e che sa appunto che tutto quel che vive è un po' l'ultimo batti odali di un'esistenza sempre particolare, sempre articolata e sempre difficilmente catalogabile in una forma perché appunto la vita è mutazione continua e nel confronto con la forma, la forma ovviamente va in crisi proprio perché non riesce ad adattarsi a quello che è un flusso costante ed incessante della vita una curiosità che mi piace sottolineare perché insomma è qualcosa che ci riguarda da vicino le musiche del cortometraggio di Bellocchio sono di Carlo Crivelli che è un amico dell'Aquila insomma sappiamo della sua, conosciamo la sua orchestra città aperta dell'Aquila docente del conservatorio Casella quindi insomma c'è in qualche modo un legame anche con la nostra città un altro aspetto che colpisce è il passaggio che richiama Uno Nessuno e Centomila e che è quando appunto l'avventore e l'uomo dal fiore in bocca stanno cominciando il loro dialogo e l'avventore che dà l'uomo dal fiore in bocca notizie sul caffè cioè dice il caffè non chiude l'uomo dal fiore in bocca risponderà no, non chiude, è aperto tutta la notte e richiama, fa un po' il paio questo il caffè non chiude con la vita non conclude con la parte finale molto lirica di alto lirismo in cui appunto la vita non conclude rappresenta quell'incessante flusso di sensazioni, emozioni, trasformazioni la vita in divenire che appunto in Uno Nessuno e Centomila veniva costantemente richiamata bene mi fermo qui ancora una volta però mi fa piacere ringraziare l'istituto cinematografico La Lanterna Magica per l'opportunità che ancora una volta ci ha offerto di parlare di approfondire i temi pirandelliani e in generale un po' quelli della cultura che tramite questo progetto La Cultura all'Infinito abbiamo potuto affrontare per oggi è tutto speriamo di rivederci presto buona giornata a tutti